Buonasera a voi. Prima dichiarazione, escusazio non petita, accusazio manifesta. Pensavo di aver qualcosa di nuovo da dire su Omero, poi mi sono accorto che tutto quello che avevo da dire non solo è stato detto, ma ridetto, ridetto, ridetto ancora. Per molti aspetti quindi la vostra preparazione e il lavoro in classe è sicuramente in grado di vedere anche meglio di quanto possa fare io i problemi inerenti ai due poemi americi. Tuttavia, cercando di far mente locale ai due testi che mi sono rimesso a leggere, tanto così, perché è pur sempre una bella lettura, se non novità, almeno un tentativo di sistemazione di alcune grosse situazioni. Mi spiego meglio. Quando ho dettato quel chi era un costoro, che mi pareva una furbata, che poi si rivela una cosa da quattro soldi là, in sostanza, era un po' un don abbondio che si avvicinava ai problemi dell'epica e smarrito di fronte a questi problemi gli partivano subito le concordanze. Ecco, tanto per intenderci. Le concordanze sono comunque difficili da far quadrare perché la situazione è quella che conoscete numericamente bene. i poemi sono due, l'autore è uno, almeno così c'è stato tramandato, pertanto non dovremmo fare altro che vedere come la figura di un autore trovi espressione e si lasci intravedere, almeno per quanto riguarda la silhouette più facile da decifrare, attraverso una lettura. Però appena si legge un po' di Iliade e un po' di Odissea, effettivamente il problema dell'autore ci sfugge di mano. Tenete presente che è il problema fondamentale di tutte le storie della letteratura. Anzi, è il modello su cui sono state create le storie della letteratura. Il binomio autore-opera è l'elemento centrale, ma anche organizzativo, che sta alla base di quella che noi chiamiamo storia della letteratura, non solo greca, ma greca, latina, e delle letterature moderne. Soggiungo una cosa, ma denti stretti, per quanto riguarda la letteratura greca, talvolta si è avuto l'impressione, uno che ha avuto questa impressione per esempio è stato Leopardi, che è un personaggio di tutto rispetto, che Omero non sia stato iniziatore, ma l'iniziatore sia stato esiodo. Perché? Perché si pensava che la prima, mi sbaglio, le prime opere da mettere in considerazione in una sequenza cronologica fossero innanzitutto opere di argomento religioso. San Francesco da noi andava benissimo, andava benissimo anche situazioni in altre storie della letteratura. E allora sembrava più la teogonia di Esiodo il testo primo che avrebbe dato impulso, perché a lungo il Settecento e l'Ottocento ha dibattuto su questa questione, tanto più che per Esiodo si può persino tentare la datazione, mentre al solito con il buon Omero siamo nei guai. Tutte le volte che si è cercato di stabilire una datazione siamo nei guai. Io passerò in rassegna rapidissimamente la questione america, perché mi interessa il punto d'arrivo, quello novecentesco. ricordo però che la questione america è una questione antica, è una questione che è nata nel mondo classico, ha avuto nel mondo classico gli unitari e i separatisti e ce li ha consegnati, per così dire, pari pari, soprattutto attraverso un documento che è in effetti un documento dir poco strepitoso, cioè un codice regio portato in Italia probabilmente dal cardinale Bessarione, è un codice quindi imperiale di Costantinopoli, ed è il Marciano A dell'Iliade. Intanto perché la messa in pagina di questo codice è davvero impressionante per la bellezza. È un'edizione per l'imperatore. Ma soprattutto perché non c'è uno spazio bianco. non vedo più un'antica mia scolara che ha studiato la presenza degli scoglia sul Marciano. Dov'è l'Abandone? Ah, eccola lì. Poi per tutto il resto chiedete all'Abandone che si è rotta la testa su questi spazi. Dunque, il Marciano A dell'Iliade non ha uno spazio bianco. Ci sono commenti nell'interlinea sul bordo di destra sul bordo di sinistra in alto e in basso. E vengono individuate la presenza di quattro autori mi sbaglio di quattro scogliasti che dovremmo essere gli eredi se non addirittura i grammatici antichi ridotti per così dire in pillole che commentano verso per verso e che quindi ci danno non soltanto una bella edizione dell'Iliade ma anche la profondità degli interventi esegetici. la rivalutazione piena del Marciano avviene in anni particolarmente interessanti. Se uno volesse avere sotto il naso la cronologia dell'Europa siamo in piena rivoluzione francese anzi dopo la rivoluzione francese. Ricordo la rivoluzione francese dice ma a Venezia non c'erano i francesi non ancora però a Venezia c'è un francese simpaticissimo è un nobile uno della nobiltà campagnola non so come dire di della della Francia Villoisone che preferisce stare a Venezia piuttosto che stare in Francia e affronteggiare i Giacobini perché sapeva benissimo che e allora con Omero si trovava in situazioni molto più convenienti a lui. La valutazione e quindi la resa pubblica di questo di questo manoscritto coincide con i lavori che Friedrich August Wolf il lupo della situazione stava facendo in una piccola università della Germania prima di diventare poi il grecista di Berlino voi si vede l'università di Berlino che è la più famosa delle università germaniche è di recentissima fondazione nel 1810 però furono chiamati tutti i più grandi studiosi e li troviamo lì filosofi troviamo Wolf troviamo Schaller ma che è impressionante davvero il corpo docente di Berlino il fondatore è quel Guglielmo von Humboldt che è sicuramente uno delle teste pensanti dell'Europa nell'Ottocento o di fine Settecento bene in quegli anni Wolf stava scrivendo i prolegomen ad Omerum esce nel 1795 ed è il punto di snodo della questione america la questione america moderna nasce un po' prima nasce in Francia con il Dobignac che però non pubblica le sue osservazioni Omero vengono pubblicate nel 1710 quando lui è già scomparso e quindi è il primo che dice attenzione non c'è un solo Omero Omero è il punto d'arrivo di tradizioni che vengono unificate forse da un solo personaggio o da più quello che ci rimane è una sorta di costruzione avvenuta nel tempo a Dobignac ha fatto eco a modo suo il nostro Vico anche questo sicuramente lo ricordate nella terza edizione della vita della scienza nuova Vico affronta il problema dei poemi omerici partendo dall'età giovanile della Grecia è la Grecia bambina che si canta le storie di eroi e sono canti che vengono trasmessi anonimamente per via orale Vico è stato il primo a insistere chiaramente che il modello orale doveva essere tenuto presente devo dire Vico la scienza nuova Vico non è immediatamente opera di diffusione in Europa recentemente ha potuto dimostrare che Wolf la conosceva ma ci sono le lettere di Wolf a Melchior e Cesarotti in cui dice ma cosa mi sa dire di Vico chiede notizie come se non l'avesse mai visto Wolf è un personaggio beh un lupo un lupo era pace come il suo maestro Heine l'ho accusato di aver diffuso l'idea che lui aveva presentato a lezione nella città nella Giorgia Augusta di Göttingen a proposito della della tradizione america così si può dire che qualcosa di Vico fosse trappelato anche da lui sta di fatto che però i prolegomeni ad Omero davvero hanno aperto la questione omerica moderna chi scompare? Omero cioè la figura di un autore solo compaiono ma mi sono dimenticato di dire c'è anche un modello come dire contemporaneo a questa operazione e la raccolta dei canti di Ossian fatta da Macpherson di questo bardo scozzese che presente all'Europa i canti popolari della Scozia attraverso un'edizione molto accurata ma che trae origine dal fatto che lui è andato a sentire i cantastorie paese per paese regione per regione in sostanza e ha potuto testimoniare che esiste un'epica dal basso in cui non conta l'autore che l'autore non c'è traccia o se c'è traccia è una figura un fantasma puramente convenzionale mentre invece ci sono episodi che si ripetono di solito nei canti popolari scozzesi le scene tipiche sono il duello la caccia particolare soprattutto se la caccia ha un mostro possibilmente un drago che mette in difficoltà una comunità di cui è liberatore l'eroe nominato dal canto dal cantare come si dice questi aspetti insomma aiutano la diffusione del testo di Wolf e ne fanno per così dire una sorta di bibbia questa volta scritta fino allora tutta la mitologia greca fu presentata come la bibbia non scritta dei greci e in molti casi i rapporti tra testi canonici della bibbia e poemi americi è stata è stata fatta e operata diciamo così dagli estudiosi il risultato è questo scompare o mero compaiono invece canti tradizionali che vengono cuciti insieme con questo si recupera un termine che circolava nella critica letteraria greca perché il termine è greco rapsodo che veniva sentito fino allora come o sinonimo o succedaneo della edo e che invece diventa il tecnico cucitore rapsodain significa cucire insieme cucire insieme appunto i canti disparati la situazione dura oltre un secolo devo dire poi bisognerebbe vedere lì cosa hanno detto nell'ottocento personaggi di tutto rilievo è vero come lo studioso come l'Ackman cioè lo studioso di Lucrezio che ha parlato di piccoli epos che poi vengono allargati allora sostanzialmente sarebbero due per i due poemi l'Ira d'Achille per l'Iliade il ritorno nostos di Odisseo per l'Odissea poi ciascuno dei rapsodi avrebbe cucito parti nuove o vecchie ma tratte da altra tratte da altra tradizione la situazione cambierà io ho ricordato la rivoluzione francese per spostare un nobile francese a Venezia e fargli studiare il codice A dell'Iliade adesso scomodo un'altra invenzione questa volta un'invenzione italiana la telefonia nei mezzi di comunicazione del primo novecento voi sapete uno dei momenti decisivi che tra l'altro sono anche stati decisivi per quanto riguarda lo svolgimento della prima guerra mondiale è stata la comunicazione nel villaggio globale uso il termine di McLuhan ma il villaggio globale si è realizzato perché Meucci o qualcun altro americano voi sapete anche su questo c'è qualche dubbio ha inventato la telefonia ha inventato la oralità nuova dopo il telefono è venuto alla radio o insieme al telefono è venuto alla radio la radio ha parlato le lingue nazionali a tutti gli ascoltatori facendo tra l'altro un'operazione anche di acculturazione dal punto di vista linguistico moderno ma soprattutto ha suggerito a un americano di genio che è Milman Parre una soluzione che era sotto pelle soprattutto se uno leggeva con attenzione Vico cioè vale a dire che ci sono delle spie fortissime per valutare la il passaggio diciamo così compositivo attraverso l'oralità cerco di essere molto cauto perché io non ho le idee chiare a proposito del rapporto testo scritto e testo orale ma certamente ci sono degli elementi che fanno pensare all'oralità voi sapete che la storia di Milman Parre è una storia francamente triste muore a 33 anni per un colpo di fucile accidentale nell'America che con le armi ha sempre giocato anche un po' troppo come voi sapete ogni giorno abbiamo sui giornali notizie di spari fuori luogo uno di questi è tronca la vita di un critico geniale che ha fatto come dire cortocircuito tra il suo presente il suo presente culturale e il grande problema omerico che le è rimasto la tradizione orale applicata ai poemi omerici è devo dire il il segno più forte di quest'ultimo cento di quest'ultimi cento anni di vita della critica america non tutti sono convinti che esista prima esista una oralità prima e una scrittura seconda adesso vedremo il perché si può avere una sorta di testa coda tra questi due aspetti ma tanto tutti sono convinti che la diffusione è quella aurale questo è evidente Omero fu conosciuto Omero i testi omerici furono conosciuti attraverso esecuzione pubblica dei rhapsodi il manifesto di queste operazioni ce l'ha dato Platone nell'Oione chi legga l'Oione sa benissimo cosa succede al rhapsodo che interpreta pezzi dell'Ilia dell'Odissea soprattutto se l'interprete nelle panatenee vale dire alla festa al grande capodanno al grande capodanno di Atene per giunta anzi da Ione sappiamo che lui stesso si sente drizzare i cappelli sulla testa quando recita certi versi e sente lui phobos e pazos ma lo vede anche negli spettatori e gli spettatori ho detto male gli ascoltatori nelle panatenee sono il pubblico atenese indifferenziato quello che non riesco a dimenticare è che francamente mi fa un pochino soffrire che l'ultimo degli analfabeti greci del quinto secolo comprendeva Omeri meglio del sottoscritto che ci ha passato sopra qualche decennio e questo in realtà è un elemento che ci dà in sostanza la certezza della comunicazione orale e del fatto che ci sia un rapporto faccia a faccia in sostanza tra l'esecutore e il pubblico su questo non mi fermerò più ma a questo punto però se devo prendere posizione non è detto potrei vivere benissimo in quei ultimi anni senza prendere posizione sul problema di moralità scrittura dei poemi americi vi segnalo però che l'ultima come vedete qui ho inventato una piccola biblioteca per vedere come si può leggere adesso l'insieme dei poemi americi forse vi sarete accorti che è uscita qualche mese fa da Mondadori l'Iliade di Omero fatta da Franco Ferrari mi sento di raccomandarlo per due elementi positivi e uno negativo Franco Ferrari è convinto che Omero e in particolare l'Iliade nota a piedi pagina il sottoscritto sarebbe persin pronto a dire su alcuni punti Ferrari ha ragione dunque l'Iliade è composizione orale e della composizione orale ci sono tracce nelle incongruenze in quelli che lui chiama gli scandali della composizione dove i vari settori non tengono un ordine logico e qui aggiungerei una nota a piedi pagina attenzione l'ordine logico dovrebbe essere quello e noi non lo conosciamo di antichi poeti e non il nostro ordine logico diciamo così alla buona post-aristotelici e post-mistici non me la sento di fare una nota molto positiva per un elemento di traduzione proprio su il nesso decisivo per l'oralità parole alate epea pteroenta io non so tradurre altrimenti che parole alate e poi sarei convinto che quel parole alate è una moneta che serve all'oralità lui traduce con scattanti parole scattanti il modello mentale è facilmente riconoscibile nel volo delle parole c'è una corda tesa una freccia che vola più volte il poeta ci dice che il tendersi di una corda di una cetra dà un suono come in un passo famoso dell'Odissea quando Odisseo riesce a incoccare la corda dell'arco la corda dà suono come di rondine non è un usignolo è una rondine ma c'era tutta una variazione dei suoni animali naturali che in qualche modo le corde registravano quando le saette volavano e i dardi colpivano la parola era pur sempre quella alate le frecce hanno le piume come le ali dell'uccello per garantire la direzione della frecce e Pia Pterot andrà tradotto con parole alate come hanno fatto i nostri vecchi tendo per intenderci Rosa Calzecchionessi ha detto fuggenti che bello ma si perde il volo della parola Maria Grazia Ciani in una bellissima traduzione dell'uscita da Marsiglio negli anni 90 95 96 traduce con fuggitive fuggenti fuggitive scattanti lasciatemi le parole alate e lasciatemi per un momento ricostruire le parole alate ma prima volevo segnalarvi dunque volevo iniziare con un punto per far vedere che avevo riletto il testo con una sorta di definizione dell'insieme del lessico dei poemi americi e guardate dove l'avrei trovato ventesimo libro dell'Iliade qualcuno è già tornato in battaglia è il signore delle armi è Achille altro che è morto lo sappiamo ma poi torneremo su questo aspetto chi lo affronta è Enea Enea non deve morire perché sennò Virgilio cosa faceva con l'Eneide sarebbe stato rovinato Enea figlio della Dea della bellezza il padre quel vecchione di Anchise a cui Afrodite si era dimenticato di chiedere l'eterna giovinezza perché lui era eterno sì ma invecchiava ogni santissimo giorno e devo dire era un pochino la summa della vecchiaia dei longevi i macrobi dell'antichità dicevo Enea affronta Achille pur sapendo che quello è Achille è impossibile sfangarla con Achille è il più bravo si scambiano male parole e già Achille dice cosa viene a combattere vorrebbe persino mandarlo a casa dice ma senti non ti scontrare con me lui gli risponde eccolo lì poles denimitsoi pantoioi e peon de polis nomos mi piacerebbe usarla come definizione del del lessico dei poemi ci sono molte e poi non so tradurre in mezzo e torneremo ci sono molte espressioni di ogni genere pantoio e c'è un prato mi sbaglio un pascolo ricco diversi di parole notate mitos e epe tutte e due lì sono sinonimi sappiamo che no perché se no sarebbe più facile mitos darà poi il mitos in Aristotele il nostro mito è una storia lunga con accezioni e accelerazioni semantiche piuttosto piuttosto impressionanti ma mitos è una parola pensata con intenzione tutte le volte che mitos compare in iliade e in odissea ha dietro un piano strategico quasi sempre omero mi sbaglio odissea quando parla e dà un'indicazione una pure semplice informazione dirà epe apteroenta proselda e pronunciava parole alate ma quando dice che cosa binogna fare pensate al cavallo dal progetto del cavallo di legno bene quelli sono mitoi sono parole che rappresentano un piano razionale apparentemente andremo contro l'interpretazione o la spiegazione di mitos che è arrivato fino a noi ma notate l'espressione è davvero impressionante perché polees e polius intanto ci accorgiamo di alcune cose in sostanza come la lingua di omero sia una lingua d'arte voi vedete che in nessuna grammatica della lingua greca potete trovare che polees è il plurale di polius lo è però se facciamo passiamo attraverso l'eolico ma lo è soprattutto se ci teniamo a mente che la lingua di omero è una lingua costruita ad arte è una lingua d'arte dunque il primo documento della letteratura greca è sorprendentemente un'opera barocca altro che genuina altro che il momento sorgivo di una lingua quello lo troveremo nell'epigrafi e non sempre perché nelle grandi epigrafi regge per esempio dei paesi greci che stanno sull'altra sponda dell'Anatolio sentiamo la pressione anche dei linguaggi di corto ma questa è lingua è lingua d'otta è lingua che può fare il plurale in un modo e in un altro le navi possono essere al plurale al dativo plurale nei si come ne essi a seconda delle mie esigenze metriche il cantore fa delle scelte poi sapete che il modello vero è la cosiddetta distrazione america distrazione america è la cosa che ha sfidato tutti i grammatici di tutti i tempi antichi ma soprattutto anche i moderni è una soluzione dal punto di vista grafico e metrico in cui non c'è l'equivalente attico o ionico c'è invece la forma assoluta e assurda orao uno dei verbi che conosce un sacco di distrazione america orao che farebbe oro e quindi sempre orontes al certo punto fa oro ontes o bisogno omega allora lì c'erano impazziti no avevano bisogno di una breve prima della lunga per far quadrare il gioco devo dire lo facevano quadrare così bene come voi sapete ci sono nel complesso dei poemi omerici circa una dozzina di versi che incominciano con una breve se l'avesse fatto in un compito in classe il nostro studente di ginnasio lo avremmo detto sciagurato rosso blu giallo diventando i verdi noi vengono chiamati acefali ovviamente perché l'inizio dell'esame tra una lunga e cosa facevano la pronunciavano lunga ma sai che trovata in sostanza allora in teoria ci poteva essere un tribraco breve 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 ma la prima veniva scandita come lunga 12 esametri a coda di topo come li hanno chiamati meiuri voi sapete l'esametro è un'esabodia d'artilica catalettica in bisillabo l'ultimo l'ultimo piede è un bisillabo può essere lunga lunga o lunga breve non ci muoviamo ne troviamo 12 in cui è breve breve l'ultimo cioè uso un pirricchio la cosa interessante il pirricchio è il verso della pirrica della pirriche è la danza armata è la danza più veloce della comunità antica in effetti sono versi in cui c'è un po' di concitazione ma il risultato era banalissimo la prima breve di queste ultime due brevi veniva tenuta dal dal cantore dal rapsodo su due tempi due unità e tutti vissero felici e contenti senza segnare ovviamente errori di metrica in questo se questo significa però in realtà che lo schema metrico è decisivo per capire sulla nascita dell'esametro eroico ci sono varie teorie ma è fuori di dubbio che è una piccola strofa è una strofa in miniatura la prima parte fino alla cesura semiquinaria è un emi e pes bella forza se si è usato la parola epos per indicare il verso dell'epica l'esametro eccetera emi e pes sarà la metà dell'epos quindi fino a alla lunga del terzo piede e dopo e dopo è chiaro che non c'è più un esametro scusate che non c'è più una sequenza datilica e dopo c'è un epitrito quindi emi e pes più epitrito e di fatti cambia il tono nella seconda parte perché fermando l'accento mi sbaglio la parola sulla semiquinaria noi dopo iniziamo la seconda parte dell'esametro con una sillaba non accentata e quindi il ritmo diventa esattamente il contrario di quello della prima parte chi ha inventato quella formula sarebbe bello sapere hanno cercato di trovare nelle tavolette micenee qualcosa che potesse essere confrontato ma nei lunghi repertori nei cataloghi delle messi delle granaglie eccetera eccetera la metrica non trova molto spazio ma sta di fatto che e allora mi fermo qui che se noi teniamo presente le funzioni del degli epi aptero poi che si interessasse della documentazione delle occorrenze la cosa buffa è questa che epi aptero enta proseuda ha 56 ricorrenze nell'Iliade e 56 ricorrenze nell'Odissea vi assicuro che questo non può essere considerato una prova che c'è un solo autore anzi voi sapete che sull'uso delle formule anzi le formule sono le cose più facili da riprodurre ma le formule sono e lo diceva Milman Pare sono l'appoggio dell'edizione orale poda soccus Achilleus Achille pieveloce sempre in finale di esametro boen agazzos diomeden diomede valente nel grido di guerra areifelos menelaos menelao caro a Marte caro a Dares poi vedremo per Odissea poi la più diffusa è Polimetis l'uomo dalla mente ricca di escogitazioni poi non so mai tradurre queste cose qui ma allora hanno valenza metrica è uguale sono dei veri e propri appoggi per il compositore orale ma non bastano le formule degli epiteti Glaucopis Atene meglio Azenaie che voi sapete dagli occhi fulgenti traducono soprattutto le donne hanno difficoltà allora io lascerei Glaucopide ma se dovessimo tradurre la lettera Glaucopis occhi di civetta Vabbè Atene poi non sembra l'idea più civettuola di tutto il parco femminile dell'Olimpo ma quella che finisce peggio è la povera era Boopis dei grandi occhi benissimo ma se uno traduce come vorrebbe il testo dagli occhi di vacca effettivamente non farebbe un grosso complimento non sarebbe come dire una traduzione lusinghiera per la signora che è la regina dell'Olimpo ma poi allora Ecaergos Apollo Apollo è sempre saettatore da lontano Mettieta Zeus Zeus dai pensieri profondi e poi c'è una cosa buffissima quando galoppano i cavalli sia nell'Illira che nell'Odissea non sono tanti casi ma quando comparano i cavalli sono Moniches Ippoi cavalli e poi ve lo traduco con Monti Pascoli perché mi pareva geniale solidunghi dallo zocco solido ma sarebbe dall'unico zoccolo poi allora devo dire sconsiglierei i solidunghi perché in un dizionario della lingua italiana uno studente di quarto ginnasio farebbe fatica a trovarlo però si trova ancora in calzecchi onesti e forse voi lo sapete meglio di me ma succedeva già a me nei secoli passati quando facevo lezione che gli studenti mi dicessero ma io faccio fatica a tradurre Omero è che non capisco la calzecchi onesti cioè la traduttrice e la sfortuna di rosa calzecchi onesti vissuta fino a 96 anni a riprova che a leggere e a tradurre Omero fa bene è che in realtà neanche il suo mentore della casa editrice aveva in quegli anni lì fortuna quando rosa calzecchi onesti traduceva subito dopo la guerra la grande guerra la seconda guerra mondiale per le inaudi in casa editrice c'era un tale che si chiamava Cesare Pavese decisero insieme di tradurre un esame con un rigo di traduzione dimenticando un metro italiano equivalente perché se no si doveva andare a cercare Carducci la metrica di Barbare tra le battaglie Omero nel Carme Tuo sempre sonanti la tarda ora mi vinse e allora si decise un rigo per ogni verso ogni tanto però la parte finale del verso si inceppava perché se c'era una parola bisdrucciola dava fastidio al finale di verso e cosa faceva Pavese lo sposti lo metta nel verso successivo e anticipi cioè chiedevano l'injambement dell'italiano questi piccoli accorgimenti che sono tipicamente paresiani creano creano tuttora problemi ai nostri ai nostri studenti da questo punto di vista qui le traduzioni che secondo me pongono meno problemi che sono queste di Maria Grazia Ciani Marsiglio 95 96 quest'ultima di Franco Ferrari se gli si perdona che il pieveloce non c'è più ed è scattante anche Achille è scattante non è più lui in sostanza non ci appartiene più podas o chius Achilleus è vero Corizziolos Hector Hector è scuotitore dell'elmo dall'elmo lucente certo può anche essere dall'elmo lucente però Corizziolos è quello che lo fa balenare che fa balenare l'elmo perché si muove ondeggiando durante il cammino la marcia per la battaglia ecco in sostanza in realtà c'è una ahimè come si potrebbe dire una tradizione interpretativa che ha in qualche modo connotato gli eroi omerici e un po' adesso li ritroviamo spaesati ma non del tutto spaesati io avevo preparato ma adesso non so cosa combino eh mi ha del paziente prova a dire rapidamente la mia sul problema chi era un costoro su Omero o sugli Omeri mi pare avervi detto fin da subito già gli antichi c'erano già i separatisti eh se non l'anico tant'è che i grandi interpreti di Omero Zenodo Aristarco e Aristofano e Bisanzio hanno poi tutti preso posizione contro costoro però per esempio nell'anonimo del sublime si dice può darsi che sia sempre Omero ma l'Iliade è l'opera della giovinezza Achille è l'autore è l'eroe che affronta tutti combina fraccelli eccetera eccetera Odisseo è l'opera della vecchiaia usa queste parole l'Odissea è l'epilogos l'epilogo dell'Iliade ha la stessa bellezza di un sole al tramonto notate non è male la norma del sublime si intendeva di critica letteraria mentre è un sole pieno del mezzogiorno l'Iliade l'Odissea ha la bellezza di un tramonto pieno non era il primo che aveva detto questo ma giovinezza di Omero vecchiaia di Omero ma sta di fatto che in quegli stessi anni io credo o poco prima Seneca se lo trovo ve l'ho morto no ho sbagliato eccolo qui nel De Brevitate Vite se la prende quei greci che pure erano modelli di sapienza per lui e dice che è una vera malattia dei greci Morbus Fult quanti fossero i rematori di Odissea perché voi sapete a seconda della nave che cade eccetera soprattutto nel passaggio di Scilla e Caridi sei rematori sei compagni e noi con gli altri piangemmo poi altri sei dai numeri scusate il besticcio e allora uno vorrebbe sapere in tutto ogni nave di Odisseo quanti rematori ma attenzione prior scripta esset Ilias an Odissea se fosse scritta per prima l'Iliade o l'Odissea preterea an eius de messet autoris e soprattutto se fossero dello stesso autore allora per Seneca sono esercizi critici che non valgono che non vale la pena di perseguire in sostanza un morbus dei greci che si divertono sui loro poemi nazionali a inventarsi a inventarsi anche i vari problemi eccolo qui l'anonimo del sublime mi sono dimenticato prima mi vedevo passando che sulle vite di Omero il mondo greco si è sbizzarrito ne abbiamo almeno sette più tracce piuttosto diffusi in papiri anche di recente ritrovamento sono sette le città che avrebbero dato i natali di Omero sette i nomi eccetera eccetera voi sapete com'è morto Omero è morto per una questione di igiene è arrivato all'isola di Io dove gli aveva detto un oracolo stai attento quando arriverai a Io sarà la fine dei tuoi viaggi lui cade ammalato e sulla spiaggia arrivano dei giovinotti pescatori alla domanda cosa avete preso rispondono questi sciagurati ciò che abbiamo preso lo lasciamo ciò che non abbiamo preso lo portiamo a casa questo è l'indovinello di Omero Omero pensa che ripensa e non riesce a capire la soluzione era già ammalato allora alcune delle vite dicono cade nel fango peggiora la situazione dopo tre giorni muore altri dicono muore dalla rabbia di non aver saputo trovare la soluzione la soluzione sono i pidocchi non è granché che il povero Omero debba morire per i pidocchi di scellerati ragazzotti dell'isola Dio anche in questo in realtà c'è una caratteristica del mondo greco il mondo greco sapeva trattare con leggerezza tutti i suoi problemi anche quelli divini anche quelli degli dèi che talvolta scendono sulla terra combattono tra sulla riva di Scamandro ora per l'uno ora per l'altro degli eserciti in lotta e quando Artemide no scusate quando Afrodite si ferisce ad un dito povera stella e ve lo deve correre subito su in Olimpo a farsi medicare ma persino Ares che sembrerebbe il dio della guerra ma anche Ares trova difficoltà a stare nella missia tra Grecia e Troiani solo Atena con Atena non riusciamo a sfangarla non riusciamo a sfangarla ci piacerebbe che Atena la smettesse di essere amica di Achille soprattutto nel ventiduesimo canto dell'Iriade quando compare sotto le vesti di Deifobo e ferma Ettore ha paura e per tre volte si fa inseguire da Achille Deifobo Atena lo ferma e dice ti do io la lancia ma l'avesse capito che era Atena perché Atena stava dall'altra parte quando la prima lancia non colpisce arriva a sfiorare il tallone bastava pochi centimetri devo dire è una delle cose più belle del film Troi solo che lì lo fanno poi alla fine verrà ucciso come sembra vero da una freccia di Paride Pandaro ma la prima lancia di Ettore si infila nel terreno a pochi centimetri dal tallone di Achille e lui cerca la seconda lancia di Deifobo e Deifobo non c'è più e gli arriva una lancia ma gli arriva di contro di quella di Achille devo dire Atena poi sarà per tutto l'Odissea accanto ad Odisseo quello che è il suo prediletto l'intelligenza fattrice di azione non so come dirla altrimenti e quindi e sarà lei e lo vedremo poi diffusamente sarà lei che dà i patti finali per porre pace tra i parenti degli uccisi e dei pretendenti uccisi e la corte di Odisseo laerte e Telemaco ora il se devo dire ecco intanto mi confondo se devo dire la mia adesso impressione dopo l'ennesima lettura dei due poemi un po' perché condizionato dagli scandali analitici messi in evidenza da Franco Ferrari il duale ci sono tre ambasciatori e camminano a due e due oi de batten allora sono Ajace Odisseo e Fenice che vanno alla tenda di Achille a dire Agamemnon è pentito ti fai doni vieni a combattere il verso del nono libro un verso inizia oi de batten batten stamper e betten duale del Lauristo terzo come fanno tre a camminare a due e due punto di domanda non sapeva che il duale vale per due lo sapeva benissimo dice perché tant'è che dice sempre Ajante duo i due Ajaci salvo che una volta usa Ajante duo per indicare Ajace e il fratello Teucro e non Ajace Telamonio e Ajace lo crese e Ajace Loileo non sapeva il duale anche non sapevano i vari in realtà c'è una cosa sicura che ci sono formule stereotipate che possono anche essere in contraddizione e non vengono registrate nel momento dell'esecuzione perché l'esecutore non lavora con le note a piedi pagina dicendo guarda che otto versi prima o nel canto precedente o 50 versi prima hai usato Ajante duo per Ajace e Teucro e adesso non puoi dire Ajante duo me ma 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 che stai avidi di combattimento bramosi di combattimento che sono i due Ajaci quelli di Dome proprio ma soprattutto ci sono alcune incongruenze più forti che poi forse riusciamo a vedere e allora mi sono persuaso che in effetti rispetto al tema originario l'ira di Achille che ha dei punti chiarissimi il libro primo la lotta con alterne vicende ma soprattutto con forti vittorie dei troiani fino a quando nel sedicesimo libro Patroclo piangendo chiede ad Achille A di tornare a combattere B di lasciare andare lui con i mirmidoni e con le sue armi Patroclo con le armi di Achille sembrava Achille Ettore è convinto di aver abbattuto Achille nello scontro del diciassettesimo libro diciottesimo libro che è un libro straordinario Achille maledice la guerra maledice se stesso in sostanza e Achille piange piangeva prima Patroclo che voleva andare a combattere adesso Achille piange per sul corpo sul cadavere sul cadavere dell'amico e non ha più le armi e dice una di quelle che a me parano delle frasi bellissime una frase che non ha ripetizione dice alla madre Teti che è venuto lì per dire vabbè adesso se hai bisogno delle armi vado io dall'armigero di casa tale festo insomma ci allangiamo dice io rimango qui axos arures peso inutile della terra è un verso non ripetuto è un verso che io mi ripeto io mi sento un po' peso inutile della terra evidentemente ma è una di una bellezza assoluta questo è l'eroe dei greci questo è il prototipo del dei grandi combattenti fino alla generazione che avrà vinto a maratona e avanti ancora fino ad Alessandro Magno peso inutile della terra la mamma pensa bene di raddoppiare il peso con le armi di Efesto che li va a prendere direttamente dal produttore il produttore è un personaggio incredibile è il sublime ambidestro Efesto è ambidestro anche un po' zoppo sapete che Efesto è zoppo perché è rotolato giù dall'olimpo devo dire il capitolo l'ha fatto perché la mamma l'aveva trattato un po' ma Efesto Efesto se è vera la sua leggenda è nato per partenogenesi da Hera era un po' arrabbiata perché il marito andava di qua andava di là e dove andava lasciava traccia i figli e allora dice ce ne faccio uno anch'io e fa Efesto che è l'artigiano bravo il fabbro costruttore del mondo ma quando lei è arrabbiata con il marito se la prende col figlio gli dà uno spentone il poverino rotola giù dall'olimpo effettivamente farsi tutta una montagna a balzalloni rimane Zoppo e Zoppo è la tradizionale figura di Efesto dicevo Efesto nel diciottesimo libro compie l'opera ammirabile le armi di Achille quello che viene descritto è lo scudo e lo scudo di Achille ha per lo più scene di pace c'è solo un cerchio è il settemplice scudo a sette giri concentrici di pelle e di bronzo solo un cerchio ha la città in guerra tutto il resto sono scene di pace allora l'eroe che con quello scudo avanzava verso i troiani a portare morte portava l'emblema della pace una cosa singolare se poi andiamo a vedere il ventiquattresimo libro ventitresimo ventiquattresimo la grande scena di Achille che lo ritroviamo in pianto ma questa volta piange su se stesso e sul proprio padre alla presenza di Priamo Priamo è andato a chiedere la restituzione del cadavere di Ettore l'hanno aiutato gli dèi hanno fatto arrivare una nebbia che andava bene lui è arrivato all'accampamento dei Mirmidoni lui non lo dunque lì c'è il cadavere di Ettore che lui ha trascinato ed era pronto per essere dato in pasto ai cani cani da ugelli ovviamente il vecchio Priamo piange piange il figlio morto e Achille con lui piange il padre Peleo che vedrà diventerà anche lui orfano del figlio è una cosa straordinaria in effetti ancora una volta il campione della guerra uno che insomma ma ne ammazzava più che Bertoldo in Francia perché tutte le scene di guerra Achille passava e sfondava le linee piange piange sulla sulle difficoltà che avrà il padre Peleo quando verrà raggiunto dalla notizia della morte di Achille Achille sa che da la troia non torna vivo è stato è stato studiato più volte allora non c'è dubbio che l'ira d'Achille finisce nel diciottesimo quando Patroco muore per il due canti 19 20 21 Achille fa sfracelli fino a quando arriva la sfida con Ettore la sfida con Ettore sappiamo Ettore è destinato a morire lo sappiamo fin da quell'incontro sulle porte scee quando ha salutato Andromaca e ha preso in braccio il figlio Astianatte e Andromaca l'ha salutato dicendo dai monie scellerato sfisei setos o meno il tuo valore ti perderà e gli dirà una cosa strana Ettore è per lei la famiglia Ettore attarsù pater e ponziameter casigneto sede e saleros paracoitis Ettore tu sei per me padre e madre e addirittura il fratello è sposo fiorente sono degli stranissimi e bellissimi versi d'amore tra l'altro della maritata di solito nella poesia greca quando comparirà la maritata la tradizione vuole che sia la mal maritata e sia un lamento continuo no lei è ben maritata ha sposato l'eroe dei troiani ma sfisei setos o meno se il tuo valore ti perderà e piange e anche Ettore saluta per l'ultimo almeno nel poema il figlio Astianatte signore della città nome parlante augurandogli di trovarsi poi in una condizione che tutti possano dire non fusi forte il padre in realtà il povero Astianatte come voi sapete finirà male sarà Odisse che lo prende per un piede e lo fa cadere dalle mura nell'ultima notte di Troia perché Ettore non deve avere non deve avere eredi in sostanza ora nel poema della guerra la pace si intrufola da tutte le parti si intrufola anche nei posti più impensati devo dire mi sono divertito a vedere alcune delle similitudini le similitudini soprattutto delle idee sono similitudini per lo più di guerra sia Ettore e poi Achille quando avanzano eccetera sono oste leone come un leone se si passa al livello dei volatili o un'aquila o un avvoltoio ma può succedere anche se ci arrivo che si trovi una similitudine anzi più di una similitudine che non lo so dove beh ve la racconto eccola qui c'è un problema testuale ma di cui vi faccio grazie le mosche e la guerra dunque quando si azzuffano i troiani dunque i greci hanno visto lo schieramento troiano fanno massa contro e sono un po' disordinati allora primo paragone come le mosche in primavera si si slanciano contro i secchi di latte non è male dunque c'è stata la mongitura siamo in piena pastorizia è il locus a menus per eccellenza là dove abbiamo molto vacche o pecore o capre invece siamo di fronte al primo scontro tant'è che bisognerà che ci sia qualcuno che metta ordine tra le schiere come un pastore di capre divide gli armenti prima sparsi al pascolo così i grandi capi ordinano le loro schiere e tra tutti Agamennone che è il re dei re che svetta tra gli altri come toro mosche armenti e il toro già ci sposta verso la battaglia ma la cosa più bella è quando il il poeta o i poeti parlano di Menelao nell'aristia di Menelao qualcuno lo sta per colpire gli sta arrivando una lancia proprio in pieno petto Atena che sta dalla loro parte con un colpo fa sì che la lancia lo colpisca al centro del come si chiama all'incrocio che regge la corazza e quindi lo graffia soltanto arriva fino alla pelle il colpo sdeviato è come è quello che fa una madre quando allontana le mosche da un bambino che sta dormendo anche le mosche nel loro piccolo è vero fanno la guerra ma questo è il mondo dei campi ci aspetteremmo di trovarlo nelle opere i giorni di Esidoli lo troviamo non c'è dubbio latte pecore e facciamo delle orge di formaggio qui invece nella similitudine l'altro mondo il mondo non della guerra è presente e ci ricorda che in sostanza ci sono dei limiti anche ci sono dei limiti persino quando Achille rimprovera Patroco Patroco inizio del sedicesimo libro chiede di tornare a combattere e dico vado io la scena però è questa Achille si rivolge a Patroco e dice Patroco perché piangi questo sarebbe già strano il pianto degli eroi è già un bel tema ma la similitudine che fa Achille piangi come una bambina piccola che corre dietro la madre e grida per farsi prendere in braccio così tu piangi a Patroco anzi dice piangi lacrime di tenerezza te rendacri devo dire Achille persino quello quel superman lì signore della guerra conosce il mondo degli effetti che è esattamente il capovolgimento della situazione dunque per arrivare a un minimo di conclusione forse sull'Iliade possiamo dire che la tradizione orale e la composizione orale si fa sentire così come si fanno sentire le cose mal combinate io qui ne avevo registrata qualcuna beh proprio a proposito di Fenice il pedagogo di Achille voi sapete abbiamo tre versi che nessuno dei documenti ufficiali vale i testimoni sia i papiri sia soprattutto i codici medievali riportano e che invece riporta Plutarco nel Deudien Dis Poetis Fenice sta narrando come mai è finito nella casa di Peleo e Peleo gli ha affidato questa la mamma non c'era era sempre al bagno non al bagno ai bagni stava sotto sott'acqua a teti di marina il padre il padre il padre Peleo è famoso perché portava la lancia di frassino più lunga che il mondo antico avesse mai visto il figlio non era da meno ma la più lunga insomma Peleo era quello che poteva dire io ce l'ho più lunga di tutti ma era anche lui sempre in giro a fare battaglie e allora viene affidato a Fenice Fenice finisce lì perché ne ha combinata una singolare il padre a Mentore aveva una concubina una pallachiss dalle guance di rosa anche le concubine sono come la rododactilos eos aurora dalle dita di rosa la mamma era un po' seccata che il papà se la facesse sempre con la concubine e ha detto a questo Fenice che evidentemente era in preda anche lui alle crisi di crescita ormonale gli ha detto fatti la concubina che si innamori di uno giovane e disprezzi quel vecchiaccio forcello di tuo padre e lui obbedisce alla mamma si deve sempre obbedire e quindi si intrattiene incontro ravvicinato del quarto tipo con la concubina del papà e il papà si arrabbia e lo maledisce e lo esilia e lui dice queste parole queste sono le parole che non sono riportate da nessuno e io volevo ucciderlo con il piombo acuto all'attisazanaton pausen colo notate tutto in funzione di dire ad Achille di cessare dall'ira meni colos colos è la sorella di menis ma qualcuno degli mortali mi fece cessare dalla dall'ira e mi costrinse a riflettere sulla voce del popolo e sui biasimi della gente per non essere chiamato parricida allora questi tre versi ci sono solo in dicevo in Plutarco problema cosa ne facciamo si aggiungono nelle edizioni moderne dico subito gli editori si sono divisi c'è chi li aggiunge e chi invece mette una nota o un asterisco e alla fine di tutto ci sono queste la cosa bella di Plutarco è che dice sono stati atetizzati anzi sono stati espunti da Aristarco perché non gli pareva bene che nel momento in cui Fenici faceva una lezione su saper trattenere la propria ira eccetera eccetera lui parlasse della possibilità di essere un parricida quindi avrebbe censurato quei versi Aristarco effettivamente è un editore sospetto non è non è il peggiore anzi dunque i tre grandi sono Zenodoto Aristarco e Aristofane di Bisanzio basta di fatto che noi negli scoglia troviamo i riferimenti all'opera di questi la cosa però interessante del passo di di Plutarco è che esistevano che circolavano edizioni in cui il testo era fluido qualcuno lui l'avrà letto da qualche parte difficile che Plutarco si inventi le cose non si può escludere per carità ma quando aveva qualcosa da dire di critica gli altri non si faceva scrupolo è vero di e pertanto anche questo cosa ne facciamo di quei versi lì vi faccio vedere un'ultima cosa delle delle difficoltà allora un'incongruenza tredicesimo canto Deifobo Deifobo è un fratello di Ettore con un colpo di Lancia cerca di atterrare i Domeneo signore dei Cretesi ma invece becca Ipsenore e lo uccide sul colpo e gli si sciolsero le ginocchia Deifobo esulta ma Antilico si avvicina al corpo di Ipsenore lo protegge permettendo a due compagni di sollevarlo e di portarlo via Barea Stenaconta ma se era morto oh Dio un eroe omerico o troiano poi si è letto il libro dei morti tibetani sa che per 40 giorni un po' di anima continua a esserci nel corpo ma questo qui era morto sul colpo quando uno si scioglie le ginocchia c'è poco da fare lo portano Barea Stenaconta che geme profondamente sarebbe Barea sordo gemeva è la traduzione di Franco Ferrari effettivamente la cosa lascia però Aristarco lì noi abbiamo lo scoglio Aristarco pensava che ci fosse un duale vedete che sono due che lo due i compagni che lo trasportano e se noi invece che Stenacontà stampassimo Stenacontè a gemere sono i due portaferi anzi il portamorto i due portantina che porti quel morto in realtà in effetti un papiro ha Stenacontes plurale ma comunque nominativo plurale che va con i due portatori in questo caso come voi vedete le cose si possono sanare per via un po' meno è quando un morto rinasce e adesso non so più è anche come il muro il muro degli Achei il muro degli Achei viene costruito per difendere le navi resiste poi a un certo punto Apollo lo distrugge come fa un bambino con un castello di sabbia due libri dopo lo troviamo costruito porca miseria ma l'aveva appena distrutto Apollo vuoi dire che ci sono messi lì di notte ricostruiti sta di fatto che non c'è dubbio che alcune cuciture per così dire mal rabberciate scusate il termine qualcosa fan pensare a questa tradizione di l'epica di base di l'ira di Achille qui abbiamo l'aristia dei vari personaggi abbiamo l'aristia di Menelao un'aristia di Diomede Diomede Grauco poi lo troveremo per il famoso esempio di come le foglie abbiamo l'aristia di Ettore quando i troiani vincono perché Zeus vuol dimostrare che senza Achille i greci col fischio avrebbero conquistato Troia e quindi epiche diverse legate a singole la Doloneia l'impresa notturna di Diomede e Odisseo che uccidono Dolone si sono aggiunte e agglutinate non sempre la connessione è precisa e ci viene in mente una cosa che un personaggio che si chiamava Aristotele diceva che l'Ilia dell'Odissea per lui le uniche due opere di Omero non le altre attribuite di Omero erano unitarie come deve essere unitario il mythos il racconto l'Odissea perché è legata alla vicenda di un uomo solo e non tutto quello che gli è capitato viene narrato l'Odissea e poi andate a vedere quel passo lì è spaventoso e l'Iliade è una sindesmo cosa vuol dire sindemos è una parola tecnica e la usa Aristotele nei capitoli linguistici della poetica sindesmo è la congiunzione cioè è una parte del discorso è una delle parti del discorso che mette insieme due che connette due parti di un logos più un discorso appunto cosa vuol dire essere unite per congiunzione e anche lui ci fa capire che intendeva una per cucitura di parti diverse un abito di Arlecchino ma che a lui non dava fastidio perché è una come una deve essere il racconto come uno deve essere il racconto dell'opera ecco ma poi quando si sofferma sulla sull'Odissea è lì ci dice ci dà la chiave di interpretazione allora se per l'Iliade magari sindesmo dobbiamo pensare tradizione orale e cucitura di parti autonome e che questo l'abbia fatto un poeta che si chiama Omero o no non lo sapremo mai dire con certezza però di sé l'unità è ben più forte l'unità ha un unico punto di rottura ed è un punto che non ci lascia non dico dormire la notte ma che non ci lascia trovare una soluzione allora adesso io non vi farò la storia però potremmo fare un momento di pausa perché confesso che volevo assumere qualche sniffare un po' di qualche medicinale per sopravvivere eccetera ma vi raccolto l'odissea tra cinque minuti allora salto tutta una serie di considerazioni un po' perché non me le ricordo più soprattutto perché mi preme invece di dire la sequente asseverazione come si dice ripeto tranne una un'unica situazione che vedremo adesso l'odissea a me pare non solo fortemente unitaria come diceva il vecchio Aristotele ma anche come il frutto di una costruzione voluta e indirizzata ci dice Aristotele nella poetica ve l'ho già ricordato che l'odissea è unitaria perché è un'azione centrata su quello che è avvenuto ad una persona ma non tutto quello che ha fatto quella persona ma solo il suo ritorno nostos parentesi voi sapete che nel cosiddetto ciclo epico i nostoi come poemi antichi non c'erano non erano solo riferiti a odisseo ma erano dedicati un po' a tutti i grandi eroi che avevano combattuto la guerra di Troy il più sfortunato è stato sicuramente quello di Agamennone che è tornato a casa per bacco si è tornato a casa ma lì ha trovato una situazione talmente pericolosa per lui e non se n'è accorto che ci ha rimesso le penne ed è il grande tema dell'oristea di Eschilo in sostanza Agamennone è ucciso dalla sposa funesta la definizione di clitennestra alocos o lumene sposa funesta la troveremo qui nell'ultimo libro dell'Odissea dove ad accogliere i pretendenti vi dico già come va a finire la storia i pretendenti muoiono perché lo dice e lo uccidi vanno nell'Ade e chi trovano nell'Ade Achille e Agamennone e sarà l'occasione per fare una piccola Eliade e un piccolo nostos anzi una piccola post-omerica perché ci narrerà la morte di Achille e anche la morte di Agamennone tornato in patria sfortunatamente caduto sotto i colpi di Critenestra e di Egisto ma non è questo il tema che mi interessa far notare dico Aristotele perché prendendo lo spunto dalla prima parte della poetica in cui parla ancora della tragedia voi sapete che poi pur mettendo fisiologicamente in rapporto la tragedia come maturazione dell'epica parla prima della tragedia e poi nella seconda parte della poetica dell'epica i due temi centrali della tragedia sono peripezia che vuol dire il cambiamento del destino dell'uomo dal positivo al negativo dal negativo al positivo la cosa interessante perché ci permette di capire che anche con un esito positivo siamo di fronte a tragedia quindi per esempio l'ione l'ione di Euripide non ti deve far stoppire e anagnorisis riconoscimento il riconoscimento è il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza se diamo retta al maestro di Aristotele in molte parti del suo testo ma fedone per esempio a proposito dell'anima mazesis è anamnesis la conoscenza è ricordo reminiscenza tutto questo ci aiuta un po' capire alcuni elementi proprio lessicali della cultura greca arcaica non sto a dirvi lo sapete meglio di me la parola che indica verità alazia ha in sé i germi del ricordo e della non latenza alfa privativo è la radice laz lez che è la radice di ricordare no di dimenticare scusate e di la dico in latino latere alazia è ciò che non è latente ma anche ciò che non viene dimenticato non ci poteva essere definizione migliore della cultura tradizionale che è basata sul ricordo non ci poteva essere migliore definizione di quella che era la che erano gli ingredienti della cultura platonica basata sull'anamnesi di ciò che l'anima ha visto prima di venire al mondo allora noi Omero non l'abbiamo visto prima di venire al mondo anche se ho il sospetto che invece Platone sì lo conosceva così bene proprio perché lo trattava male come voi ricordate per Platone i poeti i poeti epici e anche i poeti tragici vanno allontanati dalla città ideale perché agiscono sulla parte passionale dell'anima umana e quindi generano passioni e non conoscenza fortuna vuole che l'allievo di Platone Aristotele capovolga il discorso giocando sui termini di limitazione che per Platone era un termine negativo la doxa o meglio la natura come imitazione dell'idea e l'arte come imitazione della natura che è imitazione delle idee quindi di secondo grado lontana dal vero Aristotele ci dice nelle parti di apertura della poetica che mi mei stai sinfoton sinfoton tois antropois è connaturato con l'uomo noi conosciamo perché imitiamo e l'imitazione ci dà piacere se avevamo voglia di trovare termini di imitazione e di piacere dell'opera d'arte li troviamo già lì ovviamente il maestro di color che sanno la sapeva davvero lunga ora la cosa singolare che a proposito dell'odissea gli scappi ha detto Aristotele Anagnorisis Ole è tutta riconoscimento e io ho detto può far bacco sta a vedere che ci ha dato la chiave della lettura e forse anche questo è una come dire un'affermazione da quattro soldi ma che vale la pena di vedere l'odissea è una continua riscrittura del riconoscimento diventerà chiarissimo dall'ottavo libro in avanti ma prima è come una sinfonia di cui si sentono solo alcune note non c'è ancora il grande tema liberato le note comunque sono chiaramente indicate da un lessico che si sta specializzando che è conoscere e riconoscere cioè i composti di Gignosco e Anna Gignosco prima di conoscere e riconoscere ci sta il vedere sapere scusate se gioco male su questo fatto ma voi sapete che la radice id divideo da eidon all'auristo ma da oida al perfetto e il perfetto vuol dire io ho visto quindi so conosco conosco in quanto ho visto non faccio poi quello che mi era solito fare quando ero giovane secoli fa vale a dire che lì c'è anche innuce la la costruzione di quelli che sono gli ingredienti dello storico ovviamente opsis vista e udito sono i primi criteri dello storico secondo erodoto il terzo sono i logo i discorsi tradizionali e poi c'è un quarto il giudizio critico quando mancano anche i discorsi tradizionali la gnome chi fa nel poema chi ha diciamo così le stesse caratteristiche che avranno poi gli storici è il cantore è l'Aedo e due figure degli Aedi è come se il poeta i poeti avessero in qualche modo messo l'icona della confraternita e l'ha messa dove non nell'Iliade ma nell'Odissea per cantare l'Iliade perché sia femmio alla corte dei Feaci sia demodoco alla corte di femmio alla corte di Tacese scusate e demodoco alla corte dei Feaci per prima cosa cantano Clea Andron le glorie degli eroi che hanno combattuto a Troia i ritorni nostoi e poi anche temi più brillanti e ci fermeremo un momentino sulla figura di demodoco quando lo incontreremo ma demodoco vive a corte è cieco è un vecchio cieco quante volte se voi spulciate la letteratura su Omero a partire dal Cinquecento trovate che demodoco è l'ipostasi di Omero sempre che Omero voglia dire O-me-oron colui che non vede e dunque sia cieco e non Omeros l'ostaggio come altri hanno pensato ma poi se leggete Luciano una vera storia trovate che al banchetto di tutti gli uomini illustri della cultura tranne Platone c'è anche Omero la persona loquen si avvicina e gli chiede di dove sei sette città hanno detto che sei e lui dice io sono babilonese è un Omero completamente spaesato ma d'altra parte siamo sull'altra faccia della luna è vero siamo la storia vera voi sapete è il primo viaggio stratosferico della nostra della letteratura antica sono babilonese mi chiamavo Tigrane un bel nome persiano poi sono stato preso in ostaggio dai greci Omeros e così mi hanno chiamato mettetelo anche questo tra le varie strane stramberie che sono nate intorno alla vita e alla morte e alla morte di Omero ma dunque proviamo a partire dalla dal proemmio va bene il proemmio si invoca le muse la vi ricordate Meninga Eidezea diceva il proemmio della dell'Iliade e qui è la musa che al posto della Dea Monti traduceva Canta Miodiva del Pelì di Achille L'Ira Funesta eccetera però cosa ha fatto qual è la caratteristica di Odisseo dopo che ha distrutto la rocca di Troia notate che è lui il distruttore chi ha inventato il cavallo anche se non l'ha fatto materialmente ma è quello che ha il merito di aver conquistato Troia eccolo qua guardate Pollond Antropon Idenastea Cainon Egno i due verbi vide le città di molti uomini e conobbe la mente conoscenza vista sapere conoscenza certo c'è anche la sua sofferenza Pollà ma notate Pollon Pollà voi volete studiare il poliptoto a proposito di un politropo trovate quel Pollon Pollà lo stesso termine declinato in due modi per insegnare la figura retorica del poliptoto basta l'attacco dell'Odissea se volete la figura della literazione Ponto Pazzen risponde benissimo alla bisogna notate che sul mare ha patito molti dolori nell'animo ma non sono capaci a tradurre Tzimos Tzimos è qualcuno potrebbe tradurre in cuor suo Tzimos è quella parte irragionevole irrascibile dell'anima secondo Platone è quella che nella planimetria non so se si possa dire così dell'anima è rappresentata dal valore guerriero dalla classe dei guerrieri nella sua indole vedete un po' voi come tradurlo cercando di salvare la vita e il ritorno dei compagni notate che è il verso del fallimento di Odisse Odisse è l'unico che ritorna i compagni erano sciocchi non hanno saputo rispettare il divieto non mangiare i buoi del sole eccetera c'è questa caratteristica che intanto per esempio percorre tutta l'Odissea il nos al singolare di Odisseo o oggetto di comprensione i noi i pensieri i discordi dei nemici di Odissea talvolta anche dei compagni soprattutto quando decidono di mangiare le vacche le armenti del sole in Odissea 1 410 420 siamo nei primi quattro libri è una vera e propria telemachia si è detto questa parte è aggiunta non credo è l'antefatto itacense per un viaggio che permette che cosa l'incontro con gli eroi dell'Iliade prima che compaia sulla scena Odissea perché il viaggio di Telemaco lo sposta a Pilo il vecchio Nestore cavaliere quando troveremo gli eroi dell'Iliade troveremo gli epiteti dell'Iliade Nestore è il pota Gerenios il cavaliere Gerenio Menelao è Areifilos Boenagazzona Menelaos Menelao caro ad Ares valente nel grido di guerra anche se sta a pranzo e non grida in quel momento lì anzi non griderebbe mai troveremo che anche Menelao piange anche Menelao ma guardate appena si muovono le acque gli dèi sono lì pronti a tutelare i personaggi che ci interessano questa volta Telemaco che riconosce in mentore un vecchio amico del padre di Tacenze che non era andato a Troia è Atena nelle vestili Atena si muove è altro che Udini si traveste per lo più come una bellissima donna esperta nelle opere femminili questo sarebbe interessante perché è un riscatto di genere ma poi anche un maschietto baffuto e peloso ma non c'è difficoltà ovviamente per la Dea ma lui cosa fa dico il buon Telemaco fresì da zanate in zion egno nell'animo riconobbe la Dea immortale a zanate in zion nel corso dell'assemblea Odissea secondo libro Antino risponde con durezza alla denuncia delle colpe dei pretendenti dice delle malanni della corte questa banda di sciamannati che mangia e beve a spese di Penelope la colpa non siamo noi un estere non i progi pretendenti ma è mamma e compare il tema dell'inganno di Penelope che sarà tenuto presente lungo tutta la tra l'altro uno dei motivi scusate se uso questo passaggio che serve da filo conduttore la grande tela di Penelope è lei che ci ha ingannato ha detto che voleva fare il sudario per l'antico suocero la Erte che era già avanti negli anni ma come sapete l'inganno di Penelope di giorno lavora di notte disfa la tela che sarebbe poi una rivendicazione salariale mai un giorno di ferie la poverina questo aveva qualche ragione di lamentarsi è l'espediente della madre che vuole riferire le nozze quando Telemia corrisponde a confermare le sue parole e anche questo i segni del destino persino Zeus è pronto da fare come dire controllare la scenografia anche questo devo dire Efra vi ricordate nella nell'Iliade gli dei erano schierati chi da una parte dall'altra qui c'è invece un quasi totale consenso nei confronti di Itaca e poi di Odisseo uno solo è il nemico il papà di Polifemo non lo sappiamo ancora lo sapremo più avanti durante la tempesta che sorprende Odisseo quando fugge dall'isola di Calipso ma è Plutone scusate è Posidone il dio del mare che ce l'ha con Odisseo perché ha acceccato il povero Polifemo che per giunto aveva un occhio solo e quindi non poteva fare quell'operazione che è preliminare ad ogni conoscenza quello di vedere ovviamente avevamo bisogno del bestione l'incivile e mostruoso abnorme Polifemo per indicare il mondo da cui ci si deve liberare perché la civiltà sta di qua dalla parte di Odisseo che nel primo momento in cui si presenta Polifemo fa un falso riconoscimento e dice io sono nessuno Utis ti dico noi voi sapete che su questo noi siamo in difficoltà perché non riusciamo a fare un gioco di parole tra Ulisse o Odisseo e nessuno il greco ci riusciva Odisseo e Utis almeno sono tutti e due con l'iniziale no ma questo tema del sapere cosa è avvenuto il passato che serve al presente e futuro è il tema che domina la telemachia telemaco riesce a imbarcarsi nonostante abbia timore dei dei pretendenti e i pretendenti gli tenderanno un laguato ma ovviamente Atena si preoccuperà di far passare la nave senza danni ma in dal viaggio da 2 a 4 e parte del quinto abbiamo il viaggio di telemaco a Pilo e a Sparta e devo dire le cose sono notevolissime anche lì vedete che alla fine del secondo libro 2 388 al tramonto ho messo il verso lì perché è un verso che si ripete tutte le volte che c'è un tramonto troverete questo verso qui visito teglios schianto te pasa e guiai i mestieri dormono i pretendenti dormono e il buon telemaco parte sbarca Pilo da chi viene accolto dal figlio di di Nestore e devo dire la sorpresa più grossa è questa qui come si chiama questo signore Pisistrato è possibile che non fischino le orecchie perché noi sappiamo da una tradizione lunga qualche millennio che sarà Pisistrato Ateniese all'aver fatto l'edizione che ancora noi abbiamo la dico con le parole di Cicerone Pisistrato viene lodato come uomo di cultura nel Deoratore 337 perché ci ha lasciato i libri di Omero nello stato in cui noi ora li leggiamo ed è l'edizione Catapolin la città per eccellenza Atene noto a piedipagina ma ci eravamo accorti che gli Ateniesi nell'Eliade non c'erano menzogna c'erano 547 551 le navi degli Ateniesi sono poche e sono guidate da Menesteo Menesteo è l'avversario di Teseo Teseo non può comparire perché è troppo vecchio nella cronologia mitologica Teseo è un cinquantenne quando Elena ha otto anni e voi dite ma perché fate questo rapporto perché Teseo essendo uno sciupa femmine avendo saputo che c'era una bimba sparta ed era anche un po' pedofilo che a Sparta c'era una bimba piuttosto belloccia tanto più che era figlia di Zeus la rapisce ha otto anni la poverina lui ne ha cinquanta e gli fa fare due figli che andranno poi a colonizzare posti sperduti nell'Anatolio saranno Castor e Polluce i dio scuri i due fratelli gemelli ma anche lì di padre diverso che la riporteranno in Attica voi sapete che Elena è figlia di Zeus e sapete anche che è travagliata la sua nascita perché Zeus stava inseguendo in realtà Nemesi e Nemesi non aveva tanta voglia di farsi delle attenzioni del padre degli dè e degli uomini e gli sfuggiva sotto forma di uccello e l'altro si trasforma in cigno e la insegue e alla fine lei fa un uovo sarà stato il tempo della sua ovulazione il mito non lo dice questo uovo rotola da qualche parte e Zeus cigno dove lo va a impiantare in seno a Leda che è la mamma di Critenestra e dall'uovo di Nemesi di Elena ma notate il fatto che Elena sia figlia di Nemesi e di Zeus spiega perché ha fatto saltare fuori la prima guerra mondiale della storia mi sono dimenticato di una cosa volevo scusate faccio una parentesi nel terzo libro dell'Iliade quando l'esercito a che io è schierato i vecchi di Troia Antenore primo fra tutti che sarà il futuro fondatore di Padova c'è anche Priamo e vede arrivare Elena sulle torri i vecchi che erano troppo vecchi che per combattere parlavano tra di loro come cicale andava pari parsa con le mosche di prima e cosa dicono un Nemesis Troia Danfighi Guinaichi Poliun Cronon Alga Paschi non è e poi non so tradurre Nemesis che aggiungono troiani e greci per una donna siffatta patiscono dolori di questo genere un Nemesis per Elena notate gli autori omniscienti sanno il mito poi trovate la traduzione non è non è vergogna ma voi sapete Nemesis è la dia della vendetta Nemesis è cattivella Nemesis è quella che non avendo considerazioni in Olimpo getta il pomo della discordia e Calella Beto l'abbia la più bella e le altre donne le prime donne dell'Olimpo si azzuffano poi vanno da un pirla che faceva il pastore sul monte Ida di nome Paride a farsi dare il giudizio e Paride con la far primo giudice corrotto della storia non c'era stato ancora cantone con la cosa della corruzione come dice ti do tutta l'age il potere l'altra ti do tutta la sapienza del mondo e Afrodì dice io ti do la donna più bella del mondo Paride astuto come volpe è vero dice oibo e tant'è che Elena la verrà con lo scompiglio che ne succede Nemesis un Nemesis avevano detti quei cicaluni dei vecchi dei vecchi troiani dall'alto della torre tant'è che Priamo si sente in dovere di dire donna non è colpa tua se i greci e i troiani vengono a battaglia e lo vogliono gli dèi parentesi nella parentesi perché è nata la guerra di Troia ce lo dice un frammento dei canti cipri delle ciprie che è stato anche attribuito ad Omero gli dèi dell'Olimpo stufi del baccano che facevano gli uomini nel piano terra della movida del bar hanno detto liberiamo la terra e premaltusiani come erano fanno fare scoppiare la prima guerra mondiale quella guerra che non aveva ragione di esistere se noi diamo retta ad Erodoto nel secondo libro delle storie sappiamo che è vero che Pared ha portato via da Sparta Elena ma poi nel viaggio di ritorno doveva fermarsi in Egitto e il re dell'Egitto gli era fatta fermare lì Elena è rimasta in Egitto e Pared è arrivato a Troia o con le mani nude oppure con un fantasma di Elena quando i greci sono andati a chiedere la restituzione non teniamo niente l'altro non ci hanno creduto dieci anni di guerra con distruzione quando il buon come si dice il buon Menelao torna indietro nel suo Nostos dove va a sbarca in Egitto e chi ti trova Elena Elena di Euripide dicevo il figlio di Nestori si chiama Pisistrato mi piacerebbe dimenticarmi che la prima edizione dei poemi americi sia stata fatta da Pisistrato di Atene Pisistrato non è un nome del Peloponneso è un segnale che è stato messo lì chi lo sa Pisistrato accompagna il buon Telemaco a Sparta e a Sparta chi c'è? Menelao ed Elena come se non fosse successo niente vent'anni sono passati c'è stata la guerra ci sono stati i ritorni e Menelao cosa raccolta? raccolta del suo viaggio in Egitto dunque qui il poeta dell'Odissea dimenticando per un momento il poeta dell'Iliade e l'Enea e l'Enea Troia anzi là dalle torri indicava quello là grande e grosso è Menelao io lo so bene perché era mio marito quell'altro piccolo quello là con lo scudo aiacet l'ammonio eccetera sono pienamente rinconciliati Menelao ricorda il viaggio in Egitto e dice che il re di Egitto si chiama Proteo un re leggermente proteiforme è il caso di dire perché è proprio la figura mitica di colui che cambiava costantemente figure specie era un indovino onnisciente ma che non aveva voglia di fare il suo lavoro per cui sfuggiva trasformandosi anche in acqua la figlia la figlia del re Proteo indica come si chiama a Menelao come interrogarlo e Menelao ottiene il risponso può ritornare ma gli chiede anche dei compari della guerra e dice uno non è tornato e lo dice al figlio e lo disse che è prigioniero o meglio che sta a Ortigia nell'isola di Calipso da ormai da sette anni quindi scopriamo che da sette anni che Odisseo fa il consorte non separato in casa ma unito in grotta è vero della Dea Calipso se uno volesse sapere cosa vuol dire Calipso Calipso vuol dire nascondere lei è colei che nasconde Odisseo intanto per adesso Odisseo che non è ancora comparso all'orizzonte tant'è che comunque ne trae una speranza telemaco ma durante queste evocazioni delle guerre e dei ritorni piccoli liadi e nostoi ad uso e consumo della telemachia tutti piangono e tutti continueranno a piangere se Elena non non li drogasse un po' porta il nepente e lo versa nel vino nepente se uno facesse l'etimologia vorrebbe dire no dolore algo stop qualcosa di questo genere e allora non piangono più e possono ascoltare con le ciglia asciutte tutto il racconto che fa Menelao e Elena dice questi questi farmaca me li ha dati Polidamna la moglie del re d'Egitto quando quando Elena la vera Elena era in Egitto e il fantasma era andato a Troia e quegli imbecilloni se li davano di santa ragione per una figura che non c'era devo dire qualcuno si sta divertendo alle spalle di qualcun altro l'autore dell'Odissea non ha ancora letto Erodoto ma Erodoto ha letto l'Odissea e ha letto Lilia ma qui viene e questo è un bel esempio di cucitura su temi mitologici di origine diverse quella narrazione del quarto libro sull'Egitto con Elena e Polidamna anticipano l'Elena di Euripide ma l'Elena di Stesicolo quando Stesicolo canterà mi sono sbagliato voi sapete che i Dioscuri gli hanno tolto la vista e allora lui canta non sei salita sulle navi non sei andato a Troia allora ha detto va bene ridategli la viglia e fanno l'esame degli occhi e il povero Stesicolo si rivede ma notate davvero i primi quattro libri sono un piccolo capoloro di intreccio che ci dicono come si poteva fare la cucitura ma la cucitura di uno che sta a dominare e ripeto se quel pisistrato lì colli nel segno è anche uno un po' recente bisognerebbe metterlo nel VI secolo pisistrato del VI secolo e quindi pensare all'edizione Catapolis Atenese il quinto del quinto libro abbiamo finalmente la partenza di Adisseo Hermes mandato da Zeus Atena in Concilio degli Dei ha detto profittiamo Posidone dagli Etiopi era andato in vacanza in Etiopia gli Etiopi in greco voglio dire faccia nera anzi faccia bruciata erano un po' neri in effetti o abbronzati come diceva un nostro beato presidente del Consiglio Hermes viene mandato come messaggero per liberare Odisseo piccola notazione del poeta dell'Odissea Hermes non trova Odisseo con Calypso oh Calypso non era mica brutta vi assicuro nelle descrizioni ma tutte le donne sono belle se no non susciterebbero il desiderio di fermarsi a Poloro e lui è sulla riga del mare che guarda verso l'infinito e piange e ci sono alcuni versi che ogni tanto ritornano vorrebbe rivedere Itacma il fumo sollevarsi dalla terra dalla terra patria e poi finalmente morire questo è l'edisseo multiforme politropo che ha visto le città degli uomini vuole tornare a casa sappiamo che sono sette anni che è lì sette anni non sempre una crisi matrimoniale evidentemente perché stiamo risolvendola Hermes persuade Calipso la cosa bella è la dolcezza con cui Calipso si fa persuadere Calipso sa che con Hermes non può né vincerla né impattarla perché porta il il messaggio di Zeus ha dalla sua come dire la sua dignità di donna innamorata donna eterna innamorata e quindi abituata alla solitudine dell'isola chissà dov'era Ortigia ho detto Ortigia ma è Ogigia ovviamente mi confondo se qualcuno ha detto Malta una delle isole di Malta chi lo sa ma alla fine lei accetta e l'aiuta anche gli dà delle indicazioni come costruire una zattera Calipso come esperta di zattere no ma come mettere l'albero eccetera e il poverino ci fa una sua imbarcazione parte Posidone si accorge che lui sta per tornare a Itaca non è lontano da Itaca tempesta e buonanotte al vecchio scusate e lui morirebbe se anche lì non intervenisse una divinità del mare Ino la dea bianca che era finita in mare con il figlio e la morte tutte e due ma si direbbe che ha inventato il salvagente perché dà una cintura magica a Odisseo e Odisseo può salvarsi al nuoto con questo strumento magico e arriva a Proda sulla terra dei Feace Odisseo è tornato nel mondo civile mi sono sbagliato è un paesaggio intermedio tra la lontananza assoluta data dall'isola di Calipso ai confini del mondo e Itaca cioè il suo mondo i Feace è ancora una terra beata che non c'è ed è una terra di uomini che pagheranno l'aiuto dato a Odisseo tutti sapete che Odisseo è lì un po' seminudo sulla spiaggia Atena quel giorno fa venire Luzzolo a Nausica figlia di re di andare a fare un lavaggio dei pepli di casa in riva al mare e cosa trova? Trova quando ecco lì quando Odisseo si presenta a Nausica è avvenuta una cosa che si ripeterà un numero infinite di volte Atena gli fa il maquillage lui è brutto sporco anche boccativo è appena sbarcato scusate appena arrivato a fatica sulla riva semi morto diventa un uomo bellissimo ha una certa carenza ha un deficit di abiti è vero perché ha perso tutto per strano e lì ci sono due cespugli che si incaricano di coprire ta i doia in sostanza le vergogne come diremmo noi e però la povera la povera Nausica ci casca chissà se i feaci erano bruttignacoli non l'abbiamo ma è che questo qui era uscito da 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 messa che in sostanza dalla aver recuperato la piena maturità e la piena bellezza dell'eroe omerico i sette anni erano passati in vano le fatiche del viaggio precedente niente da fare e lo invita alla reggia dandogli un peplo per non che venga lì diciamo così come mamma anticlea l'ha fatto per presentarla alla reggia da quel momento Nausica Nausica diventa una delle fanciulle che di fronte allo straniero si innamorano sarà un tema costante della letteratura greca le figlie di Nausica sono piuttosto numerose e una si chiamava Medea e sarà nella storia degli Argonauti quella che risolve il problema del più squinternato degli eroi antichi Giasone che persino il suo autore Apollonio Rodio chiamava Ammecanos ha usato come formula per Giasone Ammecanos che non ce la fa Ammecanos che non ha l'ammecanè la capacità di fare quello che vorrebbe fare e ha bisogno che Medea e poi lui tradirà regolarmente la donna che l'aiutava ora la reggia dei feaci permette vi dicevo questo ritorno di Odisseo alla civiltà ha un gradino ancora diverso dalla civiltà però combatte in arena con i figli di Alcino e vince nella gara del disco tira il disco più lontano di tutti capito che questo qui non è proprio l'ultimo delle persone che sono arrivate e poi la grande scena di De Modoco De Modoco il cantore cieco che viene portato e canta e canta Cleandron e Nostoi sempre degli eroi e cosa fa Odisseo piange prima c'è un bel intermezzo che tra l'altro pone un problemino c'è un canto anzi un vero e proprio i porchè ma un canto corale accompagnato da danza che sono gli amori di Ares Afrodite è il testo più antico di una bella storia che è in realtà una pochalde Ares e Afrodite ce l'intendevano alle spalle di quel povero becco di Efesto che era il marito legittimo di Afrodite tutte le volte che Efesto andava a lavorare in officina devo dire il poverino era un pendolare dall'Olimpo all'Etna è vero che però lui era zoppo e quindi faceva fatica appena lui partiva per il lavoro il pendolare Efesto Ares si infilava nel letto di Efesto non sono ricchi i particolari di cosa faccia essere i due sicuramente non erano le parole crociate però c'è la spia da sempre c'è una spia quando ci sono questi incontri di questo tipo il sole beh è quello che vede tutto dall'alto cosa fa la spia ricatta gli amanti dicendomi pagare no dice subito al povero Efesto cosa succede Efesto Efesto è il fabbro divino è il fabbro che forse ha addirittura costruito il mondo costruisce la trappola più bella che ci sia fatta da filamenti d'oro non sappiamo bene come funzionasse ma insomma quando lui è lontano i due amanti si stanno intrattenendo piomba su di loro questa trappola fatta di fili dorati che non si possono strappare e qui la sorpresa qual è che tutto l'Olimpo va a vedere gli amanti sorpresi nel letto e questo è un film a luci rosse tra l'altro talmente a luci rosse che le idee non vanno a vedere solo i maschietti e Apollo dice a Hermes ma pur di giacere con afrodite dall'aurea cintura beh loro l'aveva anche afrodite dice ti faresti sorprendere da tutti nel letto e io dico e Hermes che è un lavativo dice ma anche se ci fossero ben più numerosi il pubblico e più anche le catene eccetera pur di stare a letto e qui scatta un'altra cosa che vale la pena di ricordare se Quisistrato ci dice che stiamo già scivolando nel sesto secolo ammesso che sia vero la scena finale degli amori di Ares afrodite ci dice che siamo dopo le leggi di Gotina perché Posidone dice interviene pago io la multa per l'adultero oh ad Atene l'adultero veniva fatto fuori veniva con le leggi le leggi di dracone erano draconiane tanto per dirne una e prevedevano il maggior la pena capitale per l'adultero qui c'è un'ammenda in un primo tempo Efesto non vuole non sa cosa farsi tra l'altro cosa gli avrebbe dato Posidone non so una mandina di cavallucci marini per fare diciamo così anche lì un acquario però alla fine di fronte alla non durezza ma alla sicurezza di Posidone accè allora anche questo è un dato di recenziorità non c'è più la legge dell'occhio per l'occhio e dente per dente e questo è stato qui ci siamo siamo già in un momento di civiltà avanzata anche dal punto di vista giuridico tra il fatto che smonta la trappola Ares fugge sui monti e lei invece va beh lei è citera e va a Cipro dove viene accolta è finalmente lavata meno male che almeno non rimane traccia di quel di quel salame di Ares che era stato sorpreso che era stato sorpreso con lei ma quando allora canto e ballo un canto corale con un accompagnamento di danza quindi come dire l'epica si fa anche culla dei geniti della lirica quando riprende il canto dei nostri Odisseo piange e Alcino le interrogano dimmi chi sei e finalmente Ulisse per la prima volta dice io sono Ulisse abito Itaca piena di sole è una delle più belle descrizioni di Itaca un'isola povera insieme ad altre isole povere quel piccolo arcipela con tolicchio e same montagnoso è il nerito che svetta eccetera dove ci sono capre non ci sono neanche pascoli per grandi armenti ma è la terra patria io sono Odisseo e non aggiunge scusate se è poco ma tutti gli altri sanno chi è perché come aveva cantato Demodoco il canto dei nostri era già la conoscenza di tutti Demodoco è anche storico cosa fa Odisseo su sollecitazione di Alcino e racconta le sue avventure i viaggi notate piccolo particolare abbiamo i racconti i racconti nel racconto abbiamo la scatola cinese che si apre e dal canto ottavo al dodicesimo il buon Odisseo racconta quello che è successo prima degli anni di Calipso dunque l'arrivo in Sicilia il ciclope riconoscimento fasullo sono nessuno ma quando è fuori portata dal tiro delle sassate delle rupe di Polifemo dice io sono Odisseo colui che ha conquistato Troia anche perché il povero Polifemo ovviamente quando i fratelli andavano a dire che gridava dice ma chi ti ha fatto questo rispondeva nessuno i fratelli che avevano studiato greco Oxford ovviamente pur essendo in Sicilia hanno detto fatti furbo un deficiente se non ti ha fatto male nessuno quella ci viene a rompere le scale notate che anche lì c'è un'altra persona che si sta divertendo c'è questo mondo greco che mi sbuca fuori da tutte le parti perché è il mondo dell'intelligenza e dove c'è l'intelligenza ci sono loro e gli altri sono questi grossi giganteschi enormi personaggi che non a caso cosa fa Polifemo crolla per il vino ebbene se i greci avevano un elemento per caratterizzare la propria la propria cultura erano quelli che sapevano bere il vino e lo sapevano bere tagliato e devo dire voi sapete vabbè il vino greco ha sempre una gradazione piuttosto elevata ma l'ideale del cratere la grande coppa in cui si mescola il vino con l'acqua è una parte di vino e dieci di acqua lì siamo sicuri che non ci si sbronza un po' di acidità di stomaco forse sì è vero ma questo è il bere sapiente è il bere del simposio quell'altro beveva latte appena munto non c'era la comunicazione del banchetto non c'era da te o mai da ità la divisione delle porzioni la tavola in parte uguale questa era la civiltà dei greci dei danai c'era era al campo di troia era nella reggia di di odisseo aditeca ora so che devo andare di corso però se c'è una cosa che trovate come allora una volta fatto il riconoscimento nella reggia dei feaci i riconoscimenti vengono giù in scala industriale come se piovesse una nave dei feaci rematori famosi porta odisseo a itaca lo sbarcano mentre lui dorme tanto per fare uno scherzo atena copre di nebbia la spiaggia di itaca tant'è che odisseo finalmente tornato a itaca non la riconosce se volevamo essere sicuri che quel tema lì continuava a suonare e suonava anche come nota negativa e questo però mentre lui non capisce dove è arrivato c'è questo intermezzo leggermente crudele posidone si vendica non più su odisseo ma sulla nave dei feaci la nave dei feaci diventa viene pietrificata sulla via del ritorno perché hanno portato odisseo che doveva morire in mare secondo la tempesta del canto quinto per vendetta di posidone per l'accecamento del ciclope di polifee quando atena graziosamente decide di riintervenire si presenta sotto forma di donna bellissima e piano piano fa diralare la nebbia e incomincia a riconoscere odisseo riconosce la spiaggia riconosce la grotta l'antro delle ninfe dove tra parentesi nascondono i doni che i feaci avevano dato ad odisseo da portare in patria perché non finiscano nella mangiatoia dei pretendenti e poi odisseo odisseo per un momento torna bello perché insomma con atena quando si chiacchia non è che uno arriva lì a torso nudo o in canotta come la buonanima di bossi quando andava da belloscone è vestito bene con lo smog ovviamente però poi deve trovare spettalità appo un porcaro l'antico eumeo che scopriremo essere fedele all'antico padrone allora i canti del porcaro sono un'altra sorpresa nell'Illida spettavamo le mosche le zanzare no ma le bambine in pianto per trovare un'umanità non guerresca alle prese con le situazioni qui troviamo nella ascesa di Odisseo verso la riconquista del trono e il ristabilimento dell'equilibrio spezzato con il suo viaggio a Troia e la pretesa dei pretendenti troviamo che la stazione più importante è la stazione nella casupola di un porcaro e il porcaro ha subota in finale diverso e dunque finalmente troviamo un epiteto una formula per il porcaro ma davanti gli mettiamo Dios che non sappiamo mai come tradurre il divino porcaro o il porcaro splendente si oscilla tra questi due modi Dios apparteneva ad Agamem non è a Odisseo eccetera eccetera dei porcari con tanto di epiteto così sonante non erano finora previsti per questo motivo c'è stata una lunga tradizione che vuole che l'Odissea sia più antica dell'Iliade perché mentre l'Iliade presenta lo stato delle pole libere contraposti i cui eroi sono tutti lì e c'è un primus interpare e Sagamennano e tutti gli altri sono su piedi di parità qui invece c'è uno stato organizzato che va dall'alto la reggia fino al più umile Ico qualcuno ha detto no è dopo che avviene questa cosa dopo il governo dell'aristocrazia io questo non so dire ma so dire che chi sta organizzando questi canti e che passa attraverso il il soggiorno presso un guardiano di porci è come se dovesse fare una nuova iniziazione è come se iniziasse qui davvero la forma finale di riconoscimento per cui Odisseo potrà essere visto inteso conosciuto come il signore di Itaca di lì a poco torna Telemaco da la Sparta sarà Atena che gli permette di sbarcare non nel porto di Itaca ma nei pressi della spiaggia dove sta Eumeo e sarà avverà lì il secondo riconoscimento perché quando arriva Itaca quando scusate quando arriva Telemaco Atena fa di nuovo maquillage e il mendicante poveraccio che andava bene per la casucola di Eumeo diventa questo uomo nella piena bellezza della sua maturità vestito bene un particolare quando Telemaco si sta avvicinando i cani di Eumeo danno segno di l'arrivo di una persona conosciuta è la prima nota di un riconoscimento famosissimo che avverrà di lì a poco quello del cane Argo scambio di parole lui si cosa fa a questo punto Odisseo mette alla prova gli interlocutori e racconta di sé le storie più strampalate è un marinaio cretese ha visto i grandi della terra ha visto anche Odisseo che partiva per Troia e questo gli permette di essere ascoltato con interesse da parte degli un altro verbo dovremmo imparare a conoscere peirao o peirazzo mettere alla prova vuole sincerarsi dell'ethos degli interlocutori ebbene devo dire Telemaco è suo figlio i suoi aggettivi Telemaco sono intelligente arguto quando vede nella casa del porcaro questo qui ben vestito gli viene un dubbio ma sei un uomo o sei un dio perché ha detto qui poche storie so che intanto aveva avuto mentore all'inizio della storia Odisseo dice non sono un dio meno male che non si era montato la testa con tutte queste storie che lo riguardano e alla fine Odisseo dirà io sono tuo padre e Telemaco non crede e ha bisogno di una prova e ovviamente Odisseo è in grado di fornirla dunque dopo Alcino e Feaci secondo riconoscimento in patria con Telemaco tornato mendicante per non farsi riconoscere non facciamoci riconoscere sembra Alberto Solt è vero tornato mendicante è accompagnato verso la reggia con da Telemaco davanti alla reggia viene riconosciuto senza parole il cane Argo ho notato c'è una allora intanto un episodio famosissimo è stato antologizzato in tutte le maniere c'è una considerazione da fare il cane Argo è un indicatore cronologico il cane Argo è stato il cane educato da Odisseo prima di partire per la guerra di Torre quindi è sicuramente più di vent'anni dieci della guerra dieci del ritorno e quindi è alla fine della vita normale di un cane i greci lo sapevano eppure rimane in vita fino al momento in cui non vede ritornare il padrone e si muove e cerca di andargli incontro e cade come non so come dirla come nell'atto del riconoscere allora come Odisseo arriva e porta la morte no porta il compimento della storia porta il ritorno dell'equilibrio lui può andarsene perché ha finito l'attesa ha finito di aspettare una lacrima sul viso avrebbe decantato qualcuno dei nostri il cane Argo la strappa anche a Odisse salto in fretta lo scontro con Iro il mendicante quando c'è una gara di mendicanti sono sempre le lotte tra i poveri gli ultimi che combattono ma insomma Odisseo si è cavata con i feaci il povero Iro al destino segnato se ne prende tante poi tante che viene cacciato dalla reggia e lui diventa il mendicante capo anche se uno dei pretendenti gli lancia contro una zampa di uove e lo colpisce eccetera anche se viene insultato delle donne dalle ancelle che si sono unite ai pretendenti anche se il capraio melanzio ben differente dal porcaio eumeo lo insulta lui tace fino a quando visto che deve essere dopo la 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 zuffa con con Iro viene affidato a Euriclea la vecchia nutrice per il lavaggio dei piedi allora il cane arco aveva garantito i vent'anni di attesa Euriclea la conferma Euriclea non sente niente da Odisse però nel lavare i piedi trova la ferita del cinghiano la vecchia cicatrice che lei conosceva essere la cicatrice di Odisseo di Odisseo giovane e ci narra anche la storia il poeta copriamo che al dare il nome di Odisseo a Odisseo non è stato il padre Laerte e neanche Anticlea ma è stato il nonno autonico che sul Parnaso l'aveva accompagnato in una caccia al cinghiale il primo colpito del cinghiale è stato Odisseo ma il cinghiale gli si fa contro e lo ferisce ad una gamba il nonno aiuta lo guarisce eccetera e gli dà il nome il nonno era odiato da tutti Odisseo mai e allora ha detto ti chiamerò Odioso ecco potremmo tradurre sempre Odioso disse perché questo sarebbe il significato a tal che lui ce lo porta con una certa disinvoltura Odisseo impedisce ad Euriclea di rivelarlo a Penelope segue la scena delle armi sequestrate la prova dell'arco piccolo particolare Odisseo non si è portato l'arco a Troia perché mai perché era un'arma all time di generazione era vi ricordate però abbattere solo ci vuole l'arco di Eracle l'arco di Eracle è la Filottete il povero Filottete è stato appunto con un serpente sull'isola di Lemno faceva talmente schifo la sua gamba infetta che i greci l'hanno abbandonato lì è il Filottete di Sofocle beh a Lemno puzzavano tutti bisogna dire le donne di Lemno era una cosa spaventosa sono quei disgraziati di argonauti che erano stati esclusi da Amplessi per lo proprio tempo che evidentemente torandosi il naso si sono come dire alleati carnalmente con le donne di Lemno è un'arma antica eppure combatte c'è qualcuno che combatte paride ma paride che combatte con l'arco è considerato un figliacco perché se può non ama il corpo a corpo la volta che deve scontrarsi con Benelao sta per essere ucciso e viene salvato da Venere Pandaro Pandaro devoto di Apollo Troiano tira benissimo con l'arco e qualcuno ferì da parte greca c'è Teucro il fratello o il fratellastro di Ayacente Lamonio Ayacente Lamonio è un altro armato all time ha il grande scudo miceneo che lo copre dalla testa ai piedi o iate purgos simile a torre dietro lo scudo miceneo qui c'è il fratello che si inguatta lì e tira con l'arco e poi si nasconde dietro lo scudo per cui questo qui si muoveva con una certa macchinosità perché c'aveva anche il traino il suo fratello eccetera parentesi nella parentesi che ha visto il film Troy sa che invece Ayacente Lamonio che combatteva con lo scudo eccetera è un signore discinto che ha solo una parte dell'abito e ha una mazza in mano sembra il figlio dell'incredibile Hulk invece che l'armato secondo la tradizione antica l'arco di Odisseo diventa l'arco della gara per i pretendenti il primo problema il vero problema è incoccare la corda dell'arco è un arco che fermo da dieci anni ovviamente nessuno dei pretendenti ce la farà alla fine il mendicante chiede di provare tutti lo deridono Telemaco dice lasciate provare e lui accrezza scalda la corda e l'incocca e la fa vibrare e la corda vibra come suono di rondine vibra come vibra la corda di una cetra scompiglio passa attraverso l'anello delle dodici scure e poi avviene la strage canto ventiduesimo la strage allora rimangono due cose da fare due riconoscimenti Penelope e il papà della Ert in tutti e due i casi abbiamo bisogno di una prova bisogna mettere la prova allora apparentemente sembrano libri inutili e invece sono libri di una grandiosità assoluta in particolare Penelope scende sa che almeno Telemaco che gli ha detto Euriclea anche che quello è Odisseo vorrebbe saltargli al collo non so se si possa dire così ma non lo fa perché non è sicura e allora sorride e si siede davanti allora se voi pensate leggete i versi in cui Odisseo dopo la strage è già rilavato e Penelope stanno sedute uno di fronte all'altro trovate il quadro che precede la famosa oda di Saffo il mi par moi faine che inos iso te oisi devo dire Saffo è omericissima in quel in quell'ostacoli e la scena è di una rarissima belletta perché Penelope vuol mettere alla prova Odisseo che è colui che ha messo la prova a tutti fino a quel momento lì e allora dice Euriclea va bene domani ne parleremo intanto prendi il letto di Odisseo spostalo fuori dal talamo e fallo dormire lì beata concessione no perché Odisseo capisce il letto non si poteva spostare il letto l'ha fatto lui c'era carenza di falegname evidentemente è un letto costruito su un grande albero ed è impiantato sull'albero accanto attorno al letto aveva costruito il talamo e poi la reggia era partito da uno strumento casalingo piuttosto interessante sorride Odisseo perché dice non puoi fare questa roba qui perché io il letto l'ho costruito e sorride finalmente Penelope sorride finalmente Penelope che abbraccia il marito e passano la notte a raccontarsi le vicende Atena aggiunge una cosa dice il poeta prolungò la notte Nux Macra notte lunga notte avrebbe cantato Modun vi ricordate che la Nux Macra è quella di tre giorni e tre notti e quella per concepire Eracle che era una fatica di impianto piuttosto audace quando il buon Zeus sotto forma di anfitrione va a far visita ad Alcmena ma c'è già la lunga notte di Odisseo e di Penelope e cosa racconta Odisseo racconta l'Iliade e il cavallo e i suoi viaggi e racconta Tiresia la profezia di Tiresia perché questo succede nella profezia di Tiresia c'è una parte che è sconvolgente Tiresia l'ha fatta subito quando disse lì non è disceso lui all'Ade ma è l'Ade che è stato evocato attraverso il sangue della vittima nera Tiresia dice tornerai perderai compagni ma tu tornerai eccetera eccetera riceverai la morte ex allos o dal mare o lontano dal mare guardate un po' perché se uno dice dal mare noi sappiamo che il mito di Odisseo continua con l'arrivo dal mare di Telegono figlio di Odisseo e di Circe impiantato a suo tempo è vero che non riconoscendo il padre ma non l'aveva mai visto poverino viene a duello con lui e l'ammazza nel confuso finale non è arrivato abbiamo solo le notizie di tardi grammatici è vero nel confuso finale di questa storia Telemacov sposa Circe che poteva essere la sua trisnonna anzi era una senza tempo tinta e Penelope sposa Telegono che era il figlio di Odisseo alla faccia delle caratteristiche delle strategie noziali insomma del tempo un altro e dice tu lascerai Itaca dice Tiresia andrai in un paese dove non conoscono il mare tu salirai dalle vallate con un remo a spalla e quando incontrerai una persona che ti dirà cosa stai facendo con quello strumento che serve per battere il grano un ventilabro allora capirai di essere giunto e poi lì ci sarai e tu morirai e beata e felice un altro viaggio non c'è quel prolungamento però con gli stessi versi della profezia di Tiresia Odisseo nella notte lunga notte racconta Penelope ma Penelope non sembra fare molta attenzione ma c'è ancora un problema in realtà sono due problemi ma uno è importante il padre il padre se ne sta nei campi vive malamente come un povero contatino come un porcaro non si è mai più fatto vedere nella reggia e lui Odisseo con Telemaco e Umeo e il capraio Filezio vanno dal padre e vede il padre là nei campi e è incerto se abbracciarlo o con lo stesso verso che aveva usato mille volte durante o metterlo alla prova e cosa fa Odisseo lo mette alla prova si presenta come uno straniero e l'altro si lamenta che il figlio eccetera quando è sicuro che l'amore di Laerte per il figlio è scomparso è una certezza dice io sono tuo figlio ma è allora Laerte che è degno padre di tanto figlio vuole lui la prova e in questo gioco continuo di intelligenze che si stuzzicano in sostanza che non stanno ferme un momento ecco allora a Penel abbiamo potuto dare la prova certissima che è lui col letto fatto sul tronco dell'albero che non si può staccare alla Erte la prova certissima è con gli alberi che lui ha piantato da piccolo gli ricorda i meli i fichi e i peri nell'ordine in cui li ha piantati e nel numero in cui li ha piantati la Erte si commuove tutte e due piangono e finalmente si ritrovano ma notate fino in fondo Odisseo e suo padre non perdono il proprio etos il proprio carattere rimarrebbe una cosa da fare la rivolta dei parenti dei poveri proci uccisi eccetera sono in armi cosa fanno loro si schierano sono 11-12 persone coi servi ma questa volta Atena cosa fa maquillage alla Erte la Erte viene cambiato nell'eroe che lui è stato la Erte è uno degli argonauti è uno dei seguaci con Jason e della conquista del Velodoro ritorna in quegli anni lì il primo colpo di lancia lo fa lui lo da lui e uccide il padre di Antino il capo dei rivoltosi Eupite e a questo punto Zeus manda il segnale della tregua e Atena stabilisce orchia i patti giurati di pace e finisce finalmente l'odissea ma ho dimenticato una cosa nel ventiquattresimo libro prima della scena finale il corteo dei proci morti scende agli inferi guidati da Ermete Teopompo ovviamente anzi Psicopompo scusate e lì incontrano Achille e Agamennone e Achille narra la morte di Agamennone e Agamennone narra come capo di Troia la morte e i funerali di Achille abbiamo le postomeriche lì in sintesi in estrema sintesi ma è che non si è lasciato scappare nulla una piccola iliade notturna con Penelope nel libro precedente e qui adesso quello che succede noi per vedere morire Achille dobbiamo aspettare le postomeriche di Quinto Smirneo e quindi mille anni qualcosa di più forse per scoprire che appunto lui è stato colpito al tallone l'unico posto avrebbe potuto messere una scarpa igienica lì è vero per salvare sapeva che il tallone era eccetera e la morte di Achille la pira su cui fu bruciato il canto delle muse chi va a cantare il canto funebre ad Achille niente meno che le muse le nove muse e poi gli Achei cosa hanno fatto hanno preso le ossa di Achille e le bianche ossa di Patroclo conservate fino allora e le hanno messe insieme nell'urna come aveva chiesto Patroclo ad Achille finalmente anche l'Iliade ha una composizione finale nell'Odissea nel mondo dei morti nel mondo dei vivi torna torna a casa Odisseo ha l'esperienza di tutto il mondo conosce il mondo per capire finalmente se stesso è una introspezione rovesciata conosce il mondo per arrivare alla conoscenza dell'io e del mondo degli affetti prossimi in sostanza ripeto se torniamo quell'aspetto della della provincia di Tiresia l'impressione che ci sia una mano sola che governa ma la mano sola che governa c'è però è come se raccogliesse uno spunto che poi non è stato sfruttato non è stato sfruttato dal mondo antico l'hanno sfruttato da Dante in poi ovviamente e poi Ulissi li troviamo a camminare da tutte le parti del mondo fino fino all'Ulisse di Joyce e fino insomma all'Ulisse di Gozzano al re di Tempesta Odisseo che è narrato dall'avvocato che in prospettiva ha sposato la signorina Felicita è diventato un notabile mi permetto di dire democristiano del Canavese e che la sera narra del re di Tempeste Odisseo ai notabili del paese al farmacista al medico al sindaco eccetera una delle più belle scenette di di Gozzano abbiate pazienza ve l'ho fatta lui state in pace buonasera grazie